Le manifestazioni del karma Rudolf Steiner, seconda conferenza, Hamburgo, 17 maggio 1910 Prima di arrivare ai problemi che sono stati annunciati relativi al nostro karma umano vero e proprio, è necessaria una serie di considerazioni preliminari. Allo scopo occorre quello che è stato detto ieri, una specie di descrizione del concetto di karma e anche quel che ci sarà da dire oggi sul karma e sul regno animale. Nel corso di questo ciclo di conferenze, nei punti in cui vi sarà proprio un motivo di indicare in modo particolare delle prove esteriori, si troverà quella che si potrebbe definire prova evidente per la realtà della conformità karmica e determinate leggi. In quelle occasioni si troverà anche la possibilità di parlare circa il fondamento dell'idea del karma con gli estranei, scettici riguardo a tutta l'idea del karma che porranno delle domande su argomenti diversi. Ma per tutto questo sono necessarie alcune considerazioni preliminari. Qual è la domanda più spontanea, se non quella riguardante il nesso fra la vita e il destino animale, con ciò che noi chiamiamo il corso del karma umano, nel quale, come si vedrà, si trovano racchiuse le questioni del destino più importanti e più profondi per gli uomini? La relazione fra gli uomini e il mondo animale sulla Terra varia nel corso del tempo e anche secondo i diversi popoli. Non è certo privo di interesse l'osservare come presso certe popolazioni che hanno conservato la parte migliore della sacra saggezza primordiale dell'umanità si trattano gli animali con tanta compassione e amore. Ad esempio nel mondo del buddismo, che ha conservato una parte notevole delle concezioni del mondo che gli uomini ebbero ai loro primordi, troviamo un modo di trattare gli animali pieno di profonda compassione, una cura degli animali e certi sentimenti nei confronti del mondo animale che in Europa molta gente non riesce a comprendere. Ma anche presso altri popoli basti richiamare alla memoria il modo che ha l'arabo di trattare il suo cavallo, specialmente quando essi conservano qualcosa delle antiche concezioni che si presentano qua e là come antiche eredità. Si trova una specie di amicizia per gli animali, una specie di trattamento umano delle bestie. Al contrario, si può ben dire che nelle regioni in cui si prepara una specie di concezione del mondo futuro, cioè nei paesi occidentali, ha preso piede una scarsa comprensione per una simile compassione verso il mondo animale. È caratteristico il fatto che nel corso del Medioevo e poi anche fino all'epoca nostra, proprio nei paesi nei quali si diffuse la concezione cristiana del mondo, poteva nascere l'idea che gli animali in genere non siano da considerare quale esseri come una vera e propria vita animica, bensì come degli automi. Forse non senza ragione si è fatto osservare, anche se non sempre con molta comprensione, che le teorie più volte sostenute dalla filosofia occidentale, che cioè gli animali siano degli automi e non abbiano una vera e propria vita animica, si sono infiltrate nel popolo che spesso non conosce alcuna compassione e non ha alcun limite nel trattamento crudele degli animali. Il fenomeno è andato tanto avanti che si poté completamente fraintendere nei suoi pensieri sul mondo animale un grande filosofo dell'epoca moderna, cioè Cartesio. Naturalmente ci dobbiamo rendere conto che da parte degli spiriti veramente importanti nell'evoluzione culturale occidentale, l'idea che gli animali siano soltanto degli automi non fu mai sostenuta. Neppure Cartesio sostenne quest'idea, per quanto in molti libri di filosofia si possa leggere che Cartesio abbia sostenuto qualcosa del genere. Però non è vero. Chi conosce Cartesio sa che egli non attribuisce certamente agli animali un elemento animico tale da potersi evolvere al punto di arrivare a una prova dell'esistenza di Dio sulla base della conoscenza dell'Io. Egli tuttavia ammette che l'animale è pervaso, è animato dai cosiddetti spiriti della vita, che naturalmente non rappresentano un'individualità omogenea come l'Io dell'uomo, ma cheppure agiscono come anima nell'organizzazione animale. È proprio caratteristico il fatto che a questo riguardo si sia potuto completamente fraintendere Cartesio. Infatti, questo ci mostra proprio che nei secoli scorsi della nostra evoluzione occidentale esisteva la tendenza ad attribuire agli animali semplicemente qualcosa di automatico. E ci si è abituati a riconoscere questa tendenza anche dove non la si sarebbe dovuta riconoscere. Se nella lettura si fosse proceduto coscienziosamente, per esempio in Cartesio. L'evoluzione culturale occidentale ha di peculiare che essa si è dovuta formare sulla base degli elementi del materialismo. Si può perfino dire che il sorgere del cristianesimo è avvenuto in modo che questo importantissimo impulso dell'evoluzione dell'umanità fu trapiantato dapprima nel materialistico modo di sentire occidentale. Il materialismo dei tempi moderni è soltanto una conseguenza del fatto che anche la dottrina religiosa più spirituale, quindi il cristianesimo, poteva trovare a tutta prima in Occidente una concezione materialistica. Se ci si può esprimere così, è proprio il destino dell'umanità dei popoli occidentali che essi si debbano adoprare per sollevarsi dalla loro base materialistica e che proprio nel superamento delle vedute, delle tendenze materialistiche debbano essere sviluppate le forze valide per un altissimo spiritualismo. Per il fatto che questo destino, cioè questo karma, è diventato proprio dei popoli occidentali, è pure presso di loro che è nata la tendenza a considerare gli animali soltanto come automi. Chi non sa penetrare bene con lo sguardo l'azione della vita spirituale, chi può ottenersi soltanto a ciò che ci circonda nel mondo sensibile esteriore, partendo dall'impressioni di questo mondo sensibile esteriore potrà facilmente arrivare a una concezione del mondo animale che pone gli animali a un livello più basso possibile. Al contrario, talune concezioni del mondo che hanno ancora mantenuto in sé certi elementi delle antiche concezioni spirituali del mondo, proprie della saggezza primordiale dell'umanità, hanno conservato una specie di cognizione di ciò che è spirituale anche nel mondo animale e nonostante tutti i malintesi, nonostante tutto ciò che si è introdotto nelle loro concezioni del mondo guastandone la purezza, non hanno potuto tuttavia dimenticare che attività spirituali, che leggi spirituali partecipano alla vita e alla configurazione dell'elemento animale. Se dunque da un lato, proprio nella mancanza di concezioni spirituali del mondo, dobbiamo scorgere un'incomprensione dell'elemento animico animale, dall'altro non dobbiamo neppure cadere nell'errore che sarebbe di nuovo soltanto un'emanazione di una concezione del mondo puramente materialistica. Se noi applicassimo senz'altro al mondo animale l'idea di karma che ci servirà a comprendere il destino umano e il karma umano. E non dobbiamo farlo. Già ieri è stato detto che è necessario comprendere molto esattamente il concetto di karma. Andremmo così fuori strada se cercassimo anche nel mondo animale quel che abbiamo definito come un ripercuotersi dell'azione sull'essere dal quale è partita la causa. Potremmo infatti imparare a conoscere in misura più vasta la conformità karmica a determinate leggi solo oltrepassando la singola vita umana fra nascita e morte per seguire l'uomo attraverso la successione delle sue reincarnazioni e arrivando a riconoscere che il ripercuotersi di una causa da noi preparata in una vita può effettuarsi soltanto in una vita successiva. Così la conformità karmica a determinate leggi passa da vita a vita e non occorre affatto che gli effetti di certe azioni si manifestino nella stessa vita fra nascita e morte. Se anzi consideriamo il karma nel suo insieme con tutta certezza non vi si manifestano. Dalle considerazioni scientifico-spirituali elementari sappiamo già che nei confronti dell'animale non possiamo parlare di una reincarnazione qual è quella che ha luogo nell'uomo invece dell'individualità umana che si conserva immutata quando l'uomo passa attraverso la porta della morte e che nel periodo della morte fino alla nuova nascita vive una vita particolare per poi rientrare nell'esistenza mediante una nuova nascita. In luogo di questa individualità umana nel mondo animale non troviamo assolutamente nulla di uguale e neppure di simile. Non possiamo parlare della morte animale nella stessa maniera con cui intendiamo la morte umana perché tutti quelli che noi descriviamo come i destini dell'individualità umana dopo che l'uomo è passato attraverso la soglia della morte non si comportano nello stesso modo per il mondo animale. Cadremmo completamente in errore se noi credessimo di poter ricercare come dobbiamo fare nell'uomo in un individuo animale l'essere reincarnato di un animale già precedentemente esistito sulla terra oggi che tutto ciò che ci si offre nel mondo viene considerato di preferenza soltanto secondo l'aspetto esteriore delle cose e non si entra nel loro intimo possono non rendersi affatto evidenti i veri grandi contrasti le importantissime distinzioni fra uomo e animale dal punto di vista esteriore considerato in modo puramente materialistico il fenomeno della morte si rileva in e qual maniera nell'uomo e nell'animale e quindi considerando la vita di un animale si può facilmente credere che fenomeni singoli si possono confrontare con fenomeni singoli della vita personale di un uomo fra nascita e morte ma in tal modo si andrebbe completamente fuori strada di conseguenza occorre accennare in un primo tempo con esempi isolati alle radicali differenze fra la natura animale e quella umana può chiarire completamente la differenza fra animale e uomo soltanto chi senza prevenzioni non si limiti a indagare i fatti che si offrono al suo esame sensorio esteriore ma indaghi anche quelli che si offrono al suo pensiero logico in tal modo troviamo un fenomeno che viene rilevato anche dagli scienziati di oggi ma col quale gli stessi non riescono a concludere niente di buono vale a dire il fenomeno per cui l'uomo è obbligato in realtà a imparare anche le cose più semplici nel corso della sua storia l'uomo ha dovuto imparare l'uso degli strumenti più semplici e ancora oggi i nostri bambini devono appunto imparare le cose della più estrema semplicità e anche impiegare un certo tempo per impararle costa fatica insegnare all'uomo qualcosa le semplici manipolazioni la fabbricazione di strumenti e di utensili e così via se noi al contrario osserviamo l'animale dobbiamo dire che per gli animali a questo riguardo tutto è più semplice pensiamo come il castoro costruisce la sua tana complicata e ingegnosa non ha bisogno di impararlo lo sa già lo porta con sé come una legge impressa in lui così come noi in quanto uomini portiamo con noi la possibilità l'arte di cambiare i nostri denti verso il settimo anno di vita anche questo nessuno ha bisogno di impararlo così gli animali portano con loro una facoltà di natura simile a quella che ha il castoro di costruire la sua tana osservando il regno animale si trova che gli animali portano con loro delle capacità ben determinate con le quali può essere realizzato qualcosa che ogni abilità umana per quanto meravigliosamente portata avanti è sempre bene lontana da raggiungere sorge così il problema di come avvenga dunque in realtà che l'uomo quando nasce è meno abile ad esempio di un pollo o di un castoro e che egli deve dapprima acquisire con gran fatica quanto gli animali portano già con sé è un grande problema e si deve innanzitutto imparare a sentire che lo sia a quanto occorre all'uomo per ottenere una sua concezione del mondo ci si accosta in realtà molto meno facendo attenzione a fatti importanti che non sapendo a che punto si devono opporre delle domande importanti certi fatti possono essere giusti ma non è detto che siano sempre di gran valore per la nostra concezione del mondo per quanto oggi stesso risaliamo in modo scientifico spirituale alle cause di questi fenomeni porterebbe tuttavia troppo lontano il voler mostrare in tutti i particolari perché sia così ma se ne potrà comunque accennare in poche parole se nell'evoluzione umana risaliamo in modo scientifico spirituale fino al lontanissimo passato troveremo quelle forze gli elementi che sono per così dire a disposizione del castoro o di un altro animale perché porti con sé nel mondo certe capacità erano a disposizione anche dell'uomo in effetti nel lontano passato l'uomo non dovette semplicemente assumere nella sua predisposizione l'inabilità e lasciare all'animale la primitiva abilità anche egli ricevette questa abitudine anzi per la verità tutto un certo rapporto persino in misura maggiore dell'animale se infatti gli animali portano con sé nel mondo certe grandi abilità tuttavia nella vita esse sono unilaterali quando entra nella vita in fondo l'uomo non è capace di nulla e deve prima imparare tutto ciò che si riferisce al mondo esterno il concetto è stato espresso in modo un po' radicale ma ci intendiamo quando l'uomo apprende dimostra subito che egli può essere più versatile che il suo sviluppo può diventare più ricco rispetto all'acquisizione di certe capacità di quanto non avvenga l'animale dunque l'uomo originariamente è stato dotato di ricche disposizioni e tuttavia egli oggi non le possiede ora si rende evidente il particolare fenomeno che all'origine l'uomo e animale erano dotati alla stessa maniera se noi risalissimo fino all'antica evoluzione di saturno troveremmo che non esisteva affatto una distinzione tra l'evoluzione umana e quella animale allora ambe due erano predisposti in modo completamente uguale che cosa accadde nel frattempo per cui gli animali portano con sé nell'esistenza tutte le possibili capacità mentre l'uomo è un compagno così inabile nell'esistenza universale in realtà come si comportò l'uomo nel frattempo dal momento che ora inaspettatamente non possiede più ciò di cui era stato dotato lo ha dissipato intensamente nel corso dell'evoluzione mentre gli animali da economi risparmiatori lo hanno tenuto in serbo questa domanda può essere sollevata partendo da un reale stato di fatto l'uomo non ha dissipato le disposizioni che oggi l'animale porta ad espressione in esteriore abilità egli pure le ha adoperate però per qualcosa di diverso dall'animale gli animali le esprimono in abilità esteriore castori e vespe costruiscono la loro tana e il loro nido l'uomo ha portato e impiegato in se stesso le medesime forze che gli animali portano ad espressione nella vita come abbiamo visto e così egli ha realizzato quella che noi chiamiamo la sua organizzazione umana superiore per il fatto di avere oggi la sua andatura eretta per il fatto di possedere un cervello perfetto e in genere una perfetta organizzazione interna egli dovette aver bisogno di determinate forze sono sono appunto le stesse forze con le quali il castoro si costruisce la sua tana il castoro si costruisce la sua dimora l'uomo ha utilizzato le forze su di sé per il suo cervello per il suo sistema nervoso e così via l'uomo non ha così conservato niente per lavorare verso l'esterno la stessa maniera se noi oggi camminiamo fra gli animali con una struttura più perfetta dipende dunque dal fatto che noi abbiamo applicato nel corso dell'evoluzione alla nostra costruzione interna tutto ciò che il castoro elabora all'esterno noi abbiamo in noi il nostro edificio da castoro e perciò non possiamo più esplicare queste forze verso l'esterno alla stessa maniera attendendoci così a una concezione unitaria del mondo vediamo dove vanno a finire le diverse attitudini che esistono negli esseri e in qual modo esse ci si presentino attualmente avendo usato a suo modo queste forze per l'uomo fu necessario nel suo sviluppo terrestre una speciale organizzazione che in parte già conosciamo perché le forze di cui abbiamo appunto parlato ora e che nelle varie specie nei diversi generi del regno animale ci si presentano in funzioni esteriori dovettero essere applicate nell'uomo all'interiorità della sua organizzazione perché soltanto per essergli stato possibile realizzare l'organizzazione interiore l'uomo poter diventare il portatore di ciò che è attualmente l'io di ciò che procede da incarnazione a incarnazione un diverso organismo non avrebbe potuto diventare portatore dell'io poiché dipende in effetti dall'abitacolo esterno se un'individualità cioè un io posso o meno rendersi attiva nell'esistenza terrestre essa non lo potrebbe se l'organizzazione esterna non fosse adatta all'individualità io così tutto si svolse al fine di rendere l'organizzazione esteriore adatta all'individualità io a questo scopo occorreva riuscire a trovare una particolare disposizione e noi la conosciamo già per quanto riguarda la sua parte essenziale sappiamo che la nostra evoluzione terrestre è stata preceduta dall'evoluzione lunare questa a sua volta da un'evoluzione solare e questa da un'evoluzione saturnia quando l'antica evoluzione lunare volgeva al termine riguardo alla sua esistenza esteriore l'uomo si trovava a un grado che si può definire di animale uomo però allora quell'organizzazione umana esteriore non era ancora tanto avanti da poter essere la portatrice di un'individualità io soltanto l'evoluzione terrestre dell'uomo ebbe il compito di incorporare l'io in questa organizzazione questo però poteva avvenire solo per il fatto che i processi della nostra evoluzione terrestre furono regolati in un modo del tutto speciale quando l'antica evoluzione lunare fu arrivata alla fine tutto per così dire si dissolse in un caos da questo dopo un certo periodo di crepuscolo cosmico sorse il nuovo cosmo della nostra evoluzione terrestre in esso era contenuto allora tutto il nostro sistema solare che è collegato con noi e con la nostra terra da questo complesso da questa unità cosmica soltanto in seguito si scissero dalla nostra terra vera e propria tutti gli altri corpi celesti non occorre che si indaghi sul modo in cui si scissero gli altri pianeti giove marte e così via noi dobbiamo solo indicare il fatto che a un determinante momento dell'evoluzione terrestre la nostra terra e il nostro sole si separarono quando il sole era già separato ed esercitava la sua azione sulla terra dall'esterno la nostra terra era ancora unita con la luna attuale quindi le sostanze e le forze spirituali che oggi sono incatenate nella luna allora erano ancora unite con la nostra terra è già è già stato chiesto più volte che cosa sarebbe accaduto se il sole non si fosse scisso dalla terra e non fosse passato alla condizione quella attuale di agire da fuori sulla terra innanzitutto quando la terra era ancora unita al sole tutto il sistema cosmico come anche i progenitori dell'uomo erano ancora legati fra loro in rapporti di natura ben diversa ovviamente è una cosa assurda prendere in considerazione le condizioni attuali e poi dire che gli antroposofi raccontano delle sciocchezze perché in questo caso tutti gli esseri organizzati avrebbero dovuto finire bruciati ma quegli esseri erano appunto tali che alle condizioni di allora potevano esistere in quella unità cosmica di natura del tutto diversa se allora il sole fosse rimasto legato alla terra sarebbero rimaste legate alla terra delle forze ben diverse molto più violente e la conseguenza sarebbe stata che tutta l'evoluzione della terra avrebbe proceduto con una tale violenza e rapidità che non sarebbe stato affatto possibile per l'organizzazione umana poter esprimere tutta la sua pienezza come se sia invece espressa pertanto era necessario che fossero messi a disposizione della terra un ritmo di tempo più lento e delle forze più dense questo poteva avvenire solo perché le forze impetuose e veementi si allontanarono dalla terra così le forze del sole esercitarono un'azione più debole ed innanzitutto per il fatto che ora grazie all'allontanamento essi agiscono sulla terra da fuori ma con questo è sopravvenuto anche qualcos'altro a questo punto la terra si trovava in una condizione tale che ancora una volta gli uomini non avrebbero potuto progredire nella giusta maniera in quel momento la conformazione era troppo densa risultava troppo lignificante e dissecante per ogni forma di vita l'uomo non avrebbe potuto di nuovo arrivare alla sua evoluzione se le cose fossero rimaste così vi si pose rimedio mediante un particolare assestamento allorché qualche tempo dopo l'uscita del sole la luna attuale abbandonò la terra e prese con sé le forze rallentatrici che avrebbero portato la vita a una lenta morte così la terra rimase separata da sole e luna scegliendo per l'organizzazione umana proprio il ritmo di tempo adatto ad accogliere ad accogliere realmente un io quale portatore dell'individualità che passa da incarnazione a incarnazione l'organizzazione umana attuale non poteva essere prodotta dal cosmo in nessun'altra condizione se non mediante il processo del distacco prima del sole e poi della luna forse qualcuno potrebbe dire che se fosse stato dominendio avrebbe fatto diversamente se avrebbe prodotto una combinazione tale per cui l'organizzazione umana avrebbe potuto progredire in un modo simile a quello con cui essa ha dovuto progredire perché mai fu necessario che prima dovesse uscire il sole e che poi ancora una volta si rendesse indispensabile l'uscita della luna chi pensa in questo modo pensa troppo astrettamente non pensa al fatto che se nell'ordinamento dell'universo si deve apportare un'interiore molteplicità quale è quella dell'organizzazione umana per ogni singola parte è necessaria una speciale disposizione e che non è possibile trasporre nella realtà ciò che il pensiero umano escogita sottilizzando in astratto si può pensare qualsiasi cosa ma nella vera scienza dello spirito si deve imparare a pensare concretamente si dirà allora che l'organizzazione umana non è affatto semplice essa consiste di un corpo fisico di un corpo eterico e di un corpo astrale queste tre parti costitutive dovettero innanzitutto essere portate a un determinato equilibrio di modo che le singole parti venissero a trovarsi in un giusto rapporto reciproco ciò potè effettuarsi soltanto mediante una triplice processo prima la formazione del cosmo unitario con terra sole e luna insieme a tutta l'unità cosmica poi dovette essere attuato da solo quello che poteva esercitare un'azione rallentante nel corpo eterico umano perché altrimenti esso avrebbe divorato troppo impetuosamente ogni evoluzione come è avvenuto quando fu portato fuori il sole in seguito si dovette portare fuori anche la luna perché altrimenti il corpo astrale avrebbe ridotto l'organizzazione umana alla morte poiché l'uomo nella sua organizzazione possiede tre parti costitutive dovevano anche verificarsi questi tre processi vediamo così che l'uomo deve la sua esistenza e le sue facoltà attuali a una complicata disposizione nel cosmo ma sappiamo anche che l'evoluzione di tutti i regni della natura non può affatto tenere lo stesso passo con l'evoluzione generale dalle considerazioni generali degli ultimi anni sappiamo che nelle singole incarnazioni planetarie della nostra terra rimasero sempre indietro rispetto all'evoluzione generale certe entità le quali in seguito col progredire dell'evoluzione vissero in condizioni che non corrispondevano completamente all'evoluzione ma sappiamo anche che in fondo ogni evoluzione poté essere avviata per la giusta via solo mediante un simile restare indietro sappiamo pertanto che durante l'antica evoluzione lunare certi esseri rimasero indietro quali entità luciferiche che da parte loro fu commesso del male ma sappiamo anche che dobbiamo ad essi ciò che più d'ogni altra cosa ci rende possibile essere uomini cioè la possibilità della libertà la possibilità di una libera esplicazione della nostra intima essenza possiamo ben dire che sotto un certo riguardo quel restare indietro delle entità luciferiche fu un sacrificio e se rimasero indietro per poter esercitare durante l'esistenza della terra delle attività del tutto speciali concedere cioè all'uomo le qualità che sono in relazione con la sua dignità umana e con la sua autodeterminazione dobbiamo appunto abituarci a usare concetti del tutto diversi da quelli altrimenti usati perché con i concetti abituali si potrebbe dire che ci sarebbe stata una specie di negligenza da parte degli spiriti luciferici e che essi dovettero essere puniti per questo senza perdono ma non fu una negligenza degli esseri luciferici il loro restare indietro fu in un certo senso un sacrificio al fine di poter agire sulla nostra umanità terrestre per mezzo di ciò che essi avevano acquisito in virtù di tale sacrificio dalle indicazioni di ieri sappiamo già che rimasero indietro non soltanto delle entità ma anche delle sostanze che continuano che continuano ad attenersi a leggi giuste in stati planetari precedenti e poi trasportate nell'evoluzione successiva così fasi evolutive di un'epoca antica si incrociano con fasi evolutive di un'epoca recente si confondono tra loro solo con questo diventa davvero possibile la molteplicità della vita così ci si presentano i gradi più svariati nell'evoluzione dell'entità non sarebbe stato mai possibile che accanto a un regno umano si fosse sviluppato un regno animale se dopo il periodo di Saturno quando sul sole gli uomini si erano già evoluti a un grado superiore certi esseri non fossero rimasti indietro per formare un secondo regno e presentarsi quali primi precursori del nostro regno animale attuale il rimanere indietro è assolutamente necessario per porre le basi di formazioni ulteriori se ora viene chiesto perché entità e sostanze devono rimanere indietro potrei dare una spiegazione mediante un paragone l'evoluzione dell'uomo doveva procedere di gradino in gradino e questo era possibile solo a mezzo di un progressivo affinamento dell'uomo se avesse sempre agito con le stesse forze mediante le quali agiva durante la fase di Saturno l'uomo non avrebbe progredito si sarebbe fermato perciò egli dovette affinare le sue forze per averne un'idea immaginiamo ora un bicchier d'acqua in cui sia stata disciolta una sostanza qualunque in queste condizioni nel bicchiere tutto il contenuto mostrerà dall'alto fino in basso la stessa colorazione la stessa densità e così via tutto sarà uguale supponiamo ora che le sostanze più grossolane si depositino sul fondo allora l'acqua più pura e le sostanze più fini restano in alto l'acqua si può dunque purificare solo per il fatto di eliminare la parte più grossolana qualcosa del genere fu anche necessario dopo che ebbe finito il suo corso l'evoluzione di Saturno dovete formarsi una simile sedimentazione e tutta l'umanità dovete eliminare qualcosa tenendo per sé le parti più fini le parti eliminati divennero poi gli animali mediante questa eliminazione gli altri esseri poterono affinarsi e fare un passo più in alto a ognuno dei gradini dovessero essere eliminate delle entità affinché l'uomo potesse arrivare sempre più in alto abbiamo quindi un'umanità che è stata resa possibile solo per il fatto che l'uomo si è liberato dalle entità che ci vivono intorno nei regni subordinati noi abbiamo avuto una volta entro la corrente dell'evoluzione questa entità con tutte le loro forze vi erano unite come nell'acqua gli elementi più densi le abbiamo lasciate sedimentare sul fondo e da esso ci siamo elevati così si è resa possibile la nostra evoluzione guardiamo dunque in basso ai tre regni della natura che vivono accanto a noi e diciamo che in tutto ciò che vediamo qualcosa che ha dovuto diventare la nostra base affinché ci potessimo evolvere queste entità sono scese sul fondo affinché noi potessimo salire così guardiamo nel modo giusto ai regni subordinati della natura se ora consideriamo l'evoluzione della terra questo questo processo ci si potrà presentare in un modo ancora più evidente nei suoi particolari dobbiamo renderci conto che tutti i fatti hanno anche certi rapporti e certe connessioni entro la nostra evoluzione terrestre ora abbiamo visto che il distacco del sole della luna dalla terra avvenne effettivamente affinché l'organizzazione umana durante l'evoluzione terrestre poter raggiungere le altezze capaci di farla diventare una individualità il distacco era necessario al fine di purificare per così dire l'organizzazione umana per il fatto però che quei distacchi nell'universo avvennero per l'uomo mediante una modificazione così radicale in tutto il nostro sistema solare fu anche esercitato un influsso su tutti gli altri traregni della natura innanzitutto sul regno animale che sta più vicino a noi volendo comprendere l'influenza che toccò al regno animale mediante i processi della scessione del sole e della luna otteniamo dall'indagine spirituale il chiarimento che ora descriverò quando il sole si fu distaccato l'uomo si trovava ad un certo grado della sua evoluzione se egli avesse dovuto fermarsi al grado che aveva durante l'epoca in cui la luna era ancora collegata con la terra l'uomo non avrebbe potuto conseguire la sua organizzazione attuale ma avrebbe dovuto andare incontro a un certo inaridimento ed essiccamento dovevano innanzitutto fuoriuscire le forze lunari il fatto che si sia resa possibile l'attuale organizzazione umana è dovuto soltanto alla circostanza che l'uomo durante il tempo in cui la luna era ancora nella terra aveva conservato un'organizzazione che era ancora in grado di ammorbidirsi sarebbe stato infatti possibile che la sua organizzazione fosse stata già talmente indurita che la fuoriuscita della luna non avrebbe più giovato a nulla al grado in cui l'organizzazione poteva ancora essere ammorbidita si trovarono in effetti soltanto i precessori degli uomini la luna doveva fuoriuscire a un determinato momento ora che cosa avvenne fino al momento in cui la luna si staccò l'organizzazione umana diventava sempre più grossolana in verità l'uomo non ha mai avuto un aspetto legnoso questa sarebbe una rappresentazione troppo grossolana l'organizzazione di allora nonostante la sua grossolanità era ancora sempre più fine dell'organizzazione attuale però per quei tempi l'organizzazione dell'uomo era così grossolana che la parte più spirituale dell'uomo cioè la parte anche allora viveva per così dire alternativamente insieme col corpo fisico e senza di esso nel periodo compreso tra l'uscita del sole e quella della luna era arrivata da ultimo a un punto tale che allorché volle ricercare di nuovo il suo corpo fisico lo trovò tanto ispessito e indurito dai processi della terra da non avere più alcuna possibilità di penetrare in esso e di servirsene come abitacolo da ciò derivò anche che la parte animico spirituale di molti predecessori umani si congedò del tutto dalla terra e per un certo tempo cercò rifugio su altri pianeti appartenenti al nuovo sistema solare soltanto una piccolissima parte dei corpi fisici fu ulteriormente idonea e si salvò al di là di questo periodo ho già più volte detto che il numero di gran lunga più grande delle anime umane emigrò nello spazio celeste e che però la corrente evolutiva che si continuava fu saldamente mantenuta da una piccola parte cioè dalle anime umane che erano robuste al massimo e capaci di sopportare e superare il tutto queste anime robuste salvarono l'umanità durante quel periodo critico dell'evoluzione durante tutto questo processo non era ancora il caso di parlare veramente di quella che chiamiamo egoità umana cioè l'individualità umana era ancora prevalente il carattere dell'anima di gruppo le anime quando si ritiravano si espandevano nell'anima della specie poi venne il distacco della luna e fu così data di nuovo la possibilità che l'organizzazione umana si affinasse così che potè accogliere nuovamente le anime che in precedenza erano fuggite a poco a poco dalle anime fino all'epoca atlantica discesero di nuovo e occuparono corpi umani erano tuttavia rimasti indietro certi organismi che si erano formati durante il periodo critico si erano riprodotti durante quel periodo ma non erano potuti diventare portatori dell'anima umana erano appunto organismi troppo grossolani così allora accanto agli organismi che più tardi poterono affinarsi se ne ebbero altri conservatesi dal periodo critico della terra questi ora divennero i precursori di un'organizzazione più grossolana e pertanto avvenne che accanto agli organismi che poterono diventare portatori di individualità umane si moltiplicassero anche organismi non capaci di essere portatori di individualità umane erano i discendenti degli organismi abbandonati dalle anime umane all'epoca in cui il sole si era già allontanato e la luna si trovava ancora unita con la terra accanto all'uomo vediamo dunque prendere forma un regno di organismi i quali a causa della conservazione del carattere lunare erano diventati incapaci di essere portatori di individualità umane questi organismi sono essenzialmente quelli che divennero gli organismi dei nostri animali attuali potrebbe sembrare strano che gli organismi più grossolani degli animali attuali possiedano tuttavia certe facoltà che possono persino operare con tanta saggezza nel mondo come ad esempio nel caso della tana del castoro possiamo però spiegarcelo se appunto non ci rappresentiamo le cose troppo semplicemente ma ci rendiamo conto che proprio gli organismi delle entità che non erano stati occupati da anime umane avevano acquisito le disposizioni esteriori della struttura animale di determinate strutture nervose e simili che resero loro possibile di mettersi completamente in accordo con le leggi dell'esistenza terrestre infatti le entità che non furono capaci di accogliere anime umane rimasero unite con la terra per tutto il tempo gli altri organismi che in seguito si affinarono in modo da poter accogliere individualità umane si trovavano pure insieme con la terra ma per il fatto di aver dovuto in seguito subire delle trasformazioni allorché la terra si trovava fuori perdettero ciò di cui si erano appropriati fino a quel momento appunto per il fatto che si affinarono che dovessero subire quelle trasformazioni osserviamo dunque quando la luna si fu separata dalla terra si trovavano sulla terra certi organismi che si erano riprodotti proprio nella linea diretta in cui essi avevano dovuto formarsi quando la luna era inizialmente unita con la terra questi organismi erano rimasti grossolani si erano attenuti alle leggi che avevano e si erano solidificati al punto che quando la luna si fu allontanata non era loro possibile alcuna modificazione essi continuarono semplicemente a riprodursi irrigiditi gli altri organismi che divennero portatori di individualità umane dovevano invece trasformarsi non potevano continuare a riprodursi irrigiditi essi si trasformarono in modo tale che ora in loro potevano operare le entità che nel frattempo non si erano unite con la terra che stavano altrove e che dovettero prima ricongiungersi con la terra in questo abbiamo la differenza tra le entità che avevano continuato a conservare l'antico carattere rigido lunare e quelle che si erano modificate ma in che cosa consistette dunque quella trasformazione quando le anime che si erano allontanate dalla terra tornarono di nuovo e ripresero possesso dei corpi cominciarono a ristrutturare il sistema nervoso il cervello e il resto dell'organismo impiegarono in certo qual modo per il completamento della struttura interiore le forze che possedevano negli altri esseri che si erano irrigiditi più nulla poteva essere modificato di questi ultimi organismi presero ora possesso altre entità che non avevano intenzione di intervenire attivamente nell'organizzazione essendo ancora rimaste a gradini precedenti entità che in genere non arrivano ad operare nell'intimo dell'organismo ma che agiscono dall'esterno come le anime di gruppo delle specie animali così gli organismi che erano adatti dopo l'uscita della luna ricevettero l'anima umana tali entità allora elaborarono l'organizzazione in modo da portarla alla perfetta struttura umana le organizzazioni rimaste rigide durante l'epoca lunare non potevano essere modificate di esse presero ora possesso le anime che in genere non erano ancora progredite al punto di entrare in un'individualità le anime che erano rimaste al gradino lunare che avevano sviluppato tutto ciò che era possibile raggiungere sul gradino lunare e che pertanto ora prendevano possesso di tali organizzazioni come anime della specie così ci si spiega la differenza tra uomo e animale risultante da processi cosmici proprio a causa dei processi cosmici nell'evoluzione della terra ci si rivelano due specie di organizzazioni se noi fossimo dovuti restare a livello della struttura delle entità che stanno immediatamente al di sotto dell'uomo dovremmo attualmente alleggiare col nostro io attorno alla terra perché quelle organizzazioni si sono troppo irrigidite noi non potremmo discendervi e malgrado siamo diventati esseri più perfetti dovremmo trovarci dove sono gli organismi delle anime di gruppo degli animali dal momento però che le nostre organizzazioni si sono potute affinare abbiamo potuto entrare in esse e utilizzarle come nostre dimore abbiamo cioè potuto discendere fin sulla terra in incarnazioni fisiche le anime di gruppo non ne hanno alcun bisogno esse agiscono entro gli esseri dal mondo spirituale nel regno animale che ci circonda vediamo dunque qualcosa che anche noi saremo oggi se non fossimo debitori della nostra organizzazione all'ordinamento descritto domandiamoci ora come mai gli animali che si trovano al di sotto di noi con i loro organismi irrigiditi siano venuti sulla terra e si discesero a causa nostra sono i discendenti dei corpi che noi dopo l'uscita della luna non volevamo più occupare perché erano diventati troppo grossolani noi lasciamo indietro quei corpi per trovarne in seguito degli altri non avremmo potuto trovarne più tardi degli altri se allora non avessimo abbandonato i primi poiché dopo l'allontanamento del sole noi dovremmo cercare il nostro sostentamento sulla terra qui abbiamo proprio il processo per cui lasciamo per così dire sotto di noi certe entità per poter trovare noi stessi la possibilità di salire più in alto per arrivare più in alto dovremmo andare su altri pianeti e lasciar degenerare i corpi sulla terra a ciò che vi rimane dobbiamo in un certo senso quel che noi siamo possiamo anche descrivere molto più esattamente questo debito di gratitudine ci possiamo infatti domandare come sia stato effettivamente possibile che durante il periodo critico potessimo abbandonare la terra poiché le condizioni non sono senz'altro tali che un essere possa andare dove vuole a quel punto si era manifestato per la prima volta durante l'evoluzione terrestre ciò di cui siamo ancora una volta debitori agli spiriti luciferici le entità luciferiche furono le nostre guide quelle che ci allontanarono dall'evoluzione terrestre nel periodo critico in certo modo esse ci dissero che sulla terra arrivava ora in periodo critico e che perciò dovevamo abbandonare la terra gli spiriti luciferici sotto la cui guida noi abbandonammo la terra erano gli stessi spiriti luciferici che nel nostro corpo astrale di allora introdussero il principio luciferico cioè l'inclinazione per tutto ciò che chiamiamo la possibilità del male in noi ma contemporaneamente anche la possibilità della libertà se essi allora non ci avessero portato via della terra noi saremmo rimasti sempre incatenati alla forma che avevamo creato in quell'epoca oggi potremmo tutt'al più alleggiare dall'alto attorno alla forma ma non potremo mai venirci a risiedere così essi ci portarono via e legarono il loro essere con il nostro tenendo conto di questo ci diventa ora comprensibile che andandocene accogliessimo gli influssi luciferici gli organismi che condivisero il destino di essere portati in regioni cosmiche del tutto speciali e che rimasero uniti con la terra restarono qui senza l'influsso luciferico essi dovettero condividere con noi le sorti della terra ma non poterono condividere con noi il nostro destino del cielo quando poi noi ritornammo sulla terra avevamo in noi l'impronta luciferica non però quegli altri esseri pertanto ci divenne possibile condurre la vita in un corpo fisico e pur tuttavia una vita indipendente dal corpo fisico di modo da poter anche diventare sempre più indipendenti dal corpo fisico ma gli altri esseri che non ebbero in sé l'impronta luciferica rappresentano ciò che noi avevamo fatto di loro ciò che erano i nostri corpi astrali nel periodo intermedio fra l'uscita del sole e quella della luna cioè quello di cui ci siamo liberati guardiamo gli animali e diciamo avremmo in noi tutta la crudeltà lavora a città tutti i vizi bestiali che gli animali presentano accanto all'abilità che possiedono se non li avessimo potuti estromettere da noi noi dobbiamo la liberazione del nostro corpo astrale alla circostanza che tutte le qualità astrali più grossolane rimasero indietro nel regno animale della terra possiamo dirci beati di non avere più in noi la crudeltà del leone l'astuzia della volpe felici che tutto ciò che ci sia stato tolto e conduca fuori di noi un'esistenza autonoma così gli animali furono in comune con noi ciò che costituisce il nostro corpo astrale per questo hanno la possibilità di saper sentire i dolori ma proprio per quanto è stato detto ora non hanno potuto conseguire la possibilità di salire sempre più in alto per mezzo del dolore e del superamento del dolore essi non hanno infatti alcuna individualità pertanto gli animali a questo riguardo stanno molto molto peggio di noi noi dobbiamo sopportare i dolori ma ogni dolore è per noi un mezzo di perfezionamento superandolo saliamo più in alto per mezzo del dolore stesso abbiamo lasciato indietro gli animali che avevano sì già la capacità del dolore però non ancora ciò che li poteva elevare al di sopra del dolore e quindi vincere il dolore questo è il destino degli animali essi ci mostrano la nostra propria organizzazione al gradino in cui noi eravamo passibili di dolore ma non potevamo ancora mediante il suo superamento trasformarlo in qualcosa di salutare per l'umanità così nel corso dell'evoluzione terrestre abbiamo dato agli animali la nostra parte peggiore ed essi si trovano attorno a noi come testimonianze che abbiamo raggiunto il nostro perfezionamento non saremmo riusciti ad elevarci se non avessimo lasciato indietro gli animali dobbiamo imparare a considerare fatti simili non come teorie ma con sentimento cosmico dobbiamo guardare gli animali con questo sentimento voi siete là fuori o animali se voi soffrite soffrite qualcosa che torna a vantaggio di noi uomini noi uomini abbiamo la possibilità di vincere la sofferenza voi la dovete sopportare noi vi abbiamo lasciato la la sofferenza e ci siamo presi il superamento se si sviluppa dalla teoria questo sentimento cosmico esso diverrà un sentimento di infinita comparticipazione per il regno animale perciò là dove dalla saggezza primordiale dell'umanità è germogliato questo sentimento cosmico dove gli uomini si sono conservati ancora un ricordo della sapienza primordiale che per mezzo della chiarovegenza crepuscolare diceva ognuno come un tempo stessero le cose là si è con questo mantenuta anche la compassione per il mondo animale là si manifesta in misura elevata la compassione per gli animali essa ritornerà quando gli uomini si abitueranno ad accogliere la saggezza spirituale quando gli uomini comprenderanno nuovamente come il karma dell'umanità sia legato con il karma della terra nei periodi che per così dire furono di oscuramento e nei quali subentrò il pensiero materialistico non si poté avere nessuna giusta supposizione di tali in essi allora si riguardava soltanto alle cose che nello spazio sono poste l'una accanto all'altra senza tener conto del fatto che le cose poste nello spazio l'una accanto all'altra hanno un'origine unitaria e si sono separate soltanto nel corso dell'evoluzione allora naturalmente non si sentiva neppure ciò che unisce gli uomini agli animali in tutte le regioni della relativa al rapporto all'uomo in tutte le regioni della terra dove si ebbe la missione di occultare questa coscienza relativa al rapporto dell'uomo col mondo animale dove invece di questa coscienza ne è subentrato un'altra che si limita allo spazio fisico esteriore là l'uomo ha ripagato gli animali di quanto ad essi era debitore in un mondo singolare mangiandoseli queste cose si mostrano però allo stesso tempo come le concezioni del mondo siano in relazione col mondo delle sensazioni e dei sentimenti umani sensazioni e sentimenti sono alla fine conseguenze delle concezioni del mondo e come si modificano le conoscenze e le concezioni del mondo così si modificano anche le sensazioni e i sentimenti nei rapporti umani l'uomo non poteva fare altro che seguire un'evoluzione superiore e per permettere a se stesso di salire più in alto doveva spingere altri esseri nell'abisso egli non poteva dare agli animali un'individualità atta a compensare nel karma ciò che gli animali dovevano soffrire egli poteva trasmettere loro soltanto il dolore senza poter dare la legge karmica del compenso ma ciò che l'uomo non pote dare allora agli animali lo darà un giorno quando sarà arrivato alla libertà e all'altruismo della sua individualità allora anche in questo campo egli sarà in grado di comprendere coscientemente l'adeguamento alla legge karmica e dirà devo agli animali quel che io sono ciò che io non posso più dare ai singoli animali che da un'esistenza d'ombra ciò di cui io per così dire sono stato una volta responsabile verso gli animali adesso devo a mia volta rimediarlo con gli animali mediante il trattamento che io riservo loro col progredire dell'evoluzione per mezzo della coscienza dei nesti karmici subentrerà anche un nuovo rapporto dell'uomo col regno animale migliore di quello che esiste oggi soprattutto in occidente sopravviverà un modo di trattare gli animali grazie al quale l'uomo dopo averli spinti in basso li redimerà così vediamo anche karma e regno animale in un determinato nesso reciproco quel che l'animale prova nella vita come destino non può venire paragonato col karma umano se non vogliamo fare d'ogni erba un fascio ma se consideriamo l'evoluzione della terra nel suo insieme e ciò che dovette accadere a vantaggio dell'umanità e della sua evoluzione allora vedremo che ci sarà effettivamente possibile di parlare di un nesso karmico fra l'umanità e il mondo animale